aspetta ti faccio il gioco mangi 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 guarda concentrato vai vai al mio 3 guarda bene 1 ok 2 3 guarda eh guarda faccio un gioco di magia guarda pezzo di carta no guarda dove guarda pezzo di carta dove no guarda qua no ah pazzè poi faccio un gioco di magia ok guarda non ti spaventare cercherò di muovere il tuo occhio Ok? Fermo. Uno, due, tre. Sentite qualcosa? Sì. Dove? All'occhio. Adesso ti faccio riguardare il video.